Grazie a tutti Io vi ricordo sempre applicate la crema solare Ma io tante volte me lo dimentico E adesso ho le mani unte di siero Non riesco ad aprirlo Comunque io utilizzo questa crema solare Protezione 50 di Mi Amo Anche questo non è uno sponsor Vi sto parlando solo di prodotti con i quali mi trovo bene E questo è specifico per l'iperpigmentazione Quindi mi raccomando In gravidanza e non Ricordatevi tutti i giorni anche se fuori non c'è il sole Di applicare la protezione solare E niente Io spero di questa situazione E vi auguro di non arrivare Insomma ad avere le macchie ma di essere brave E applicare la crema solare tutti i giorni E non fare come me Comunque non è possibile Siete tremende Perché io parlo di macchie e ricevo messaggi Allora se hai le macchie in viso È maschio Siete tremende Tutto bene? Per ora sei stato bravo Ma dalla faccia Dalla faccia Sembra che trami qualcosa Sembra che trama qualcosa Ciao ragazzi Eccoci qui Allora ragazzi Se questo video vi piace Mi raccomando sempre Cliccate Mi piace E scrivete un commento sotto a questo video qua Noi ci vediamo al prossimo video Da Cino Mangina è tutto Ciao bella raga